Buonasera, con il Museo dei Tatra e con la direttrice Anna Vende Sormiak, un'ottima direttrice, credetemi, abbiamo realizzato molti progetti espositivi. Abbiamo pensato e fatto nascere l'IMMA, l'Alleanza dei Musei delle Montagne, e questo è stato un onore reciproco. Mille grazie anche per l'amicizia e la stima. Buon centotrentesimo anniversario. Mi dispiace non essere con voi questa sera. Un saluto a tutti. A l'occasione 130. rocznicy powstania Muzeum Tatrańskiego im. doktora Tytusa Haugnickiego w Zakopanem, oddział Łódzki, Polskiego Towarzystwa Tatrańskiego, życzy Wszystkiego Najlepszego! ZACO PANE NO MI NASAN KONNICHO! BRONI SVOPPIUSSKI NO MAGO NO 木村和康です TATRA HAug物館創立130周年 おめでとうございます Il nostro corso di Gesù, il nostro corso di Gesù, il nostro corso di Gesù. Alla prossima! 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 Alla prossima!